Biodiversità delle praterie alpine è il titolo della mostra visibile fino al 1 settembre nella sala incontri dell'ufficio relazioni con il pubblico del consiglio con un centinaio di immagini fotografiche dedicate alla natura alpina. L'esposizione è realizzata in collaborazione con il Museo regionale di scienze naturali di Torino, l'Istituto di scienze dell'atmosfera del clima del Consiglio nazionale delle ricerche, i parchi nazionali del Gran Paradiso e dell'orsiera Rocciavrè. È una mostra che è stata realizzata in collaborazione col Museo e con il Parco del Gran Paradiso, col Parco dell'orsiera Rocciavrè e con l'Istituto del Clima del CNR. È una mostra di grande rilievo, ne abbiamo addirittura due edizioni che portiamo in giro in tutto il Piemonte. Siamo molto onerati di averla potuta montare anche in questa bella vetrina che è costituita dall'URP qui della sede di Torino del Consiglio regionale. Una mostra che vuole dare visibilità alla meraviglia delle nostre montagne, della flora che ci c'è nelle praterie alpine. Un modo per dimostrare la varietà di cui siamo ricchi, di quanto è ricco il nostro paesaggio e allo stesso tempo cercare di spingere alla curiosità, all'attrazione verso quello che noi abbiamo e anche alla conservazione.